E' una ferma qua, era l'occhietto, era l'occhietto, volete lasciare la pelle qui, per farne la pelle se lascia la pelle, ecco, vado sotto col bacino, sotto di lui, ancora non ho messo i ganci, ok, difende il gancio basso, il gancio sopra lo riporto qui, mi fa mettere il gancio, chiudo o apri, schiena, ok, allungo, gancio, sfino, sotto della spalla, vicino, strango, ok, domande? Proviamo tre volte a testa a questa sequenza, Buongiorno! Grazie. 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 Grazie.